E di un morto e quattro feriti, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale 660 in contrada a Timpone, avvenuto nel territorio del comune di Acri. Due le vetture coinvolte nell'impatto, una Mercedes 270 ed una Nissan Qashqai. A perdere la vita è stata la donna a bordo della Nissan. Le persone rimaste ferite nell'impatto sono state soccorse dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportate nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, di staccamento di rende, e i carabinieri di Acri. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Presenti sul luogo dell'incidente stradale anche gli agenti della Polizia Municipale di Acri e gli addetti ANAS per il ripristino della circolazione veicolare.